Musica Tutti in piazza contro la buona scuola, docenti protestano in diverse città, manifestazioni anche a Isernia. Il senatore Ruta ha illustrato gli emendamenti di modifica alla legge che saranno discussi in commissione a Palazzo Madama. I lavoratori della GAM tornano a protestare, preannunciano eclatanti contestazioni, frattura, mantenga gli impegni assunti, dicono gli operai, fino ad oggi solo parole, ma l'azienda è sempre chiusa, oggi faccia a faccia con avi molise. Santa Maria del Molise, indagini vanno avanti, i carabinieri hanno perquisito le case di un amministratore comunale nel paese a Isernia, sarebbero stati sequestrati dei documenti. Ultime ore di campagna elettorale, dopo domani si vota in diversi comuni molisani, il più grande è Montenero di Bisaccia, dove la sfida è tra quattro candidati alla carica di sindaco. Allenatore del Campobasso, fra sette giorni l'annuncio, la società si è riunita, ieri si è parlato della questione tecnica e si stanno vagliando tutte le ipotesi, anche quella del ripescaggio. Buon pomeriggio, benvenuti al nostro telegiornale, i docenti in contemporanea in diverse città italiane hanno organizzato un'originale forma di protesta contro la riforma della scuola a Isernia, si sono incontrati in piazza Celestino V, sentiamo Sergio Di Vincenzo. Vestiti di rosso e armati del loro libro preferito, docenti, personale scolastico, studenti e cittadini hanno invaso diverse piazze italiane per partecipare in contemporanea a un flash mob di protesta contro la riforma della scuola, in discussione in questi giorni nelle aule del Parlamento. A Isernia la manifestazione è stata organizzata in piazza Celestino V. Non c'è dialogo tra i vertici e la base, sicuramente quello che pensavamo potesse essere un nuovo leader progressista invece si sta rivelando un premier arrogante che poi interviene su temi come quello della scuola dove effettivamente non se ne conosce nulla. Nelle scuole bisogna starci, per cui questo modello di autoritarismo che il DDL esprime e la sua possibile conversione in legge, francamente è tutto ciò che alla scuola non serve. La riforma, così come è stata concepita, non piace soprattutto perché non solo si va verso una sostanziale privatizzazione, ma anche perché viene concesso ai presidi il potere di effettuare chiamate dirette. In tal modo, il parere di chi contesta questo disegno di legge si cancellerebbe per sempre il concetto di meritocrazia. Senza l'attribuzione di un punteggio come avviene attualmente e quindi da cui dovrebbe poi corrispondere una chiamata dei presidi che noi poi riteniamo che possa diventare una scelta personale, quindi una scelta che non corrisponda ai criteri di meritocrazia, non sempre almeno. Cioè sarebbe poi una cosa discrezionale dei dirigenti che in quanto persone potrebbero o no rispettare dei criteri obiettivi, ma potrebbero anche farsi condizionare da altri elementi. La protesta ha trovato pieno sostegno anche da parte degli studenti. Anche per loro la scuola che verrà non promette nulla di buono. Io guardo al nostro futuro e con questo decreto legge non abbiamo possibilità di realizzarci. Cosa contestate in particolare? Diciamo soprattutto per troppo potere dei presidi, perché è come se fossimo in una dittatura. La scuola non è più pubblica, è privata. E intanto sul disegno di legge La Buona Scuola, il senatore del Partito Democratico, Roberto Ruta, ha presentato una serie di emendamenti illustrati nel corso di una conferenza stampa che ha seguito per noi Anna Maria Di Matteo. La scuola non ha bisogno di autoritarismo, semmai di autorevolezza, perché è il nucleo di formazione sociale più importante dopo la famiglia. Per questa ragione il disegno di legge elaborato dal governo Renzi va rivisto, va modificato in alcune delle sue parti. E la conferma della non condivisione arriva dallo sciopero nazionale che ha registrato un'adesione da record pari al 90%. Lo ha detto a chiare lettere il senatore del PD Roberto Ruta, che ha presentato una serie di emendamenti al testo e ha convocato i giornalisti per illustrarli e per chiarire che nel disegno di legge La Buona Scuola non è tutto sbagliato. Ci sono cose buone, come l'assunzione dei 100.000 insegnanti ha spiegato, ma altre che vanno assolutamente cambiate. Tra gli emendamenti presentati dal deputato Molisano c'è quello che prevede l'istruzione obbligatoria per almeno 12 anni, a partire dall'anno scolastico 2016-2017. E poi, altro punto contestatissimo della riforma, è la figura del dirigente scolastico. Un vero e proprio manager al quale viene attribuito il potere decisionale sulla scelta dei docenti e sulle premialità da assegnare loro. Anche su questo punto Ruta ha presentato alcuni emendamenti che stabiliscono i criteri di merito degli insegnanti con l'istituzione del comitato per la loro valutazione, composto da due docenti eletti dal collegio dei docenti, da due rappresentanti dei genitori e altrettanti degli studenti. Le indicazioni fornite dal comitato saranno vincolanti. Altro punto centrale della riforma sul quale Ruta ha espresso un giudizio positivo è il piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato che prevede 100.000 emissioni in ruolo. Il problema è che restano fuori 50.000 insegnanti, ha ricordato il deputato, che ha presentato un emendamento che prevede l'inserimento delle assunzioni a tempo indeterminato in un piano pluriennale in maniera da consentire la stabilizzazione graduale anche dei 50.000 insegnanti che per il momento restano fuori a causa di quella che Ruta ha definito una discriminazione e che in questo modo sarebbe meno insopportabile. Intanto la competente commissione del Senato ha avviato le audizioni con le associazioni di categoria. Mercoledì è prevista la discussione e la votazione al Senato. In serata ci sarà la riunione del gruppo del PD in base a quello che verrà fuori da quell'incontro, ha spiegato Ruta, decideremo il da farsi perché una cosa è certa. Se il disegno di legge non sarà modificato non saremo d'accordo e solleveremo la questione in maniera forte e decisa. Ha concluso il Senatore. Con l'ultima legge finanziaria il Governo regionale ha portato a termine quel progressivo processo di smantellamento dell'Agenzia regionale di protezione civile. A dirlo sono i consiglieri di centro-destra, Palazzomo, Fusco, Perrella, Iorio, Sabusco, Micone e Cavaliere hanno presentato un ordine del giorno al Presidente della Giunta. Frattura hanno sottolineato individui soluzioni adeguate a salvaguardare gli 84 precari senza contratto dando attuazione all'impegno assunto e definisca già da ora le linee per tutelare la situazione lavorativa degli operatori della protezione civile il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Gli operai della GAM rompono il silenzio e preannunciano eclatanti azioni di protesta. Frattura mantenga gli impegni presi fino ad oggi sono solo parole ma l'azienda è sempre chiusa. Dicono intanto oggi il faccia a faccia con Avi Molise per la gestione provvisore all'incontro è ancora in corso. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Sono appena trascorse alcune settimane di tranquillità apparente tra i lavoratori della GAM ma dopo il fallimento dello zuccherificio decretato dal Tribunale di Larino si è rialzato il livello dello scontro con la Regione ed è tornato il nervosismo tra i 270 operai sempre più preoccupati del loro futuro. L'azienda boianese è chiusa infatti dal mese di novembre del 2013 eccezione fatta per l'incubatorio gestito dal gruppo AIA mentre la definizione della gestione provvisoria affidata a Avi Molise è slittata di un altro mese e dovrebbe essere perfezionata entro la prima decada di giugno a meno di sorprese dell'ultima ora. Qual è oggi la situazione alla GAM di Boiano? Stiamo vivendo un momento drammatico di forte preoccupazione e di incertezza di tanti rinvii e perdite di tempo. Si parlava del primo mattone a settembre 2014 però sta arrivando anche a settembre 2015 quindi il dato di fatto è che lo stabilimento ad oggi ancora è chiuso quindi c'è tanta preoccupazione che passa tra i lavoratori. Voi i lavoratori intanto però siete in cassa integrazione straordinaria. Ma proprio per questo rimarco la perdita di tempo perché noi ci siamo giocati già un anno di cassa integrazione ordinaria da novembre 2014 siamo in cassa integrazione straordinaria ad oggi sono passati un'altra sei mesi se il piano a pieno regime prevede il riassorbimento di tutti i lavoratori in tre anni io penso che forse saremo fuori di parecchi mesi e voglio rimarcare anche il fatto che comunque noi sì, i 270 siamo in cassa integrazione straordinaria però noi vogliamo il lavoro, l'abbiamo sempre detto va bene in questo momento la cassa integrazione ma non ci dimentichiamo comunque dei 420 degli allevatori e dei trasportatori che ad oggi non hanno forme di sostegno a reddito. Intanto però si avvicina la scadenza il 7 giugno per la gestione provvisoria della gamma che verrà affidata ad Avimolise Io apprezzo il coraggio di questo consorzio però noi con Avimolise abbiamo fatto una riunione sola e abbiamo riscontrato tanti dubbi io non so ad oggi che senso ha la fase provvisoria visto che a luglio il Presidente ci ha sempre confermato che ci sarà il bando quindi perché mettere a rischio oggi i 30 lavoratori dell'incubatoio cambiandogli l'inquadramento e anche il livello economico Quindi lei punta tutto sul bando definitivo di luglio ma ci sarà? Guardi, a noi il Presidente ha sempre confermato che il bando si farà a luglio io mi auguro che si assuma la responsabilità e mantenga fede agli impegni presi Il primo, il bando di luglio e il secondo punto che a noi interessa tantissimo è di dare una soluzione definitiva a questa avvertenza che ormai sono due anni che sta andando avanti E proprio per sollecitare la soluzione definitiva alla avvertenza GAM dalla prossima settimana potrebbe scattare la mobilitazione dei lavoratori con eclatanti azioni di protesta che romperebbero il silenzio e il clima di tranquillità sociale registrato nelle ultime settimane Report sulla crisi dell'economia molisana se ne parlerà questa sera a Moby Dick in diretta a partire dalle 21 ospiti di Giovanni Minicozzi saranno il docente di economia e gestione di imprese dell'Unimol Antonio Minguzzi e i presidenti di Union Camere Pasqualino Pier Simoni della Camera di Commercio di Campobasso Paolo Spina di Fimmolise Carlo Veneziale e di Sviluppo Italia Claudio Pian Il guerrero sannita Giovanni Muccio ha organizzato davanti all'ospedale Veneziale di Isernia un sit-in di protesta sentiamo perché in questo servizio di Enzo Di Gaetano Situazione drammatica all'ospedale di Isernia le sale operatorie bloccate pronto soccorso in crisi i medici che vengono mandati a Venafro insomma qui sta crollando tutto ma sembra che la politica non si interessi Noi siamo qui con il presidente regionale del Dipartimento Sanità del Guerrero Sannita proprio per gridare la drammaticità che sta vivendo il nostro popolo molisano ma in particolare in questo momento il popolo isernino io credo che noi dobbiamo interessarci a questo problema credo tutti noi e in particolare le istituzioni e mi riferisco in particolar modo al sindaco di Sernia, Brasile nonché presidente della provincia di non lasciare da solo i grida di dolore, di disperazione di una classe medica cioè qui si sta facendo palatino della cittadinanza i medici che sono gli operatori e la classe politica è assente mi rivolgo anche e soprattutto anche ai partiti io dico solo una cosa a Brasile deve far sentire la sua voce nei confronti del Molise di tutti come lo fa il guerrero Sannita che ha appoggiato il Molise di tutti oggi è critico e lo dice ma caro Brasile oggi non puoi stare così inerme quanto un popolo soffre carenza di personale ma i cittadini che si regano a pronto soccorso stanno ore e ore prima di essere visitati poco a poco devono essere ricoverati vengono messi su una lettica e lì stazionano per il giorno intero ma è una situazione che grida vendetta che grida solidarietà nei confronti di questo popolo del popolo umile, laborioso quindi io voglio fare un appello sia politico verso la classe politica e sia un appello morale Anche Fernando Tartarino responsabile sanità del guerrero Sannita una riforma messa sotto accusa dal Movimento soprattutto per la divisione in due aziende altri dirigenti, altri incarichi Beh sì in effetti i correttivi ci sarebbero ma non in questo senso basterebbe pensare che la legge Balduzzi poi non è tutta da buttare perché si prevedeva di operare sul territorio di potenziare la medicina del territorio di fare le cosiddette unità operative territoriali cioè bisognerebbe avere un po' di lungibilanza da parte della classe politica e andare praticamente a considerare a fare una mappa del territorio e a istituire questi presidi che potrebbero risultare vantaggiosi per far decrescere l'offerta al pronto soccorso e quindi non intasare i pronto soccorsi e creare questi presidi per far sì che con personale medico preparato potrebbero praticamente ovviare e anzi stabilizzare i pazienti senza praticamente bypassare e quindi intasare le strutture bypassare quindi la medicina di base e intasare le strutture del pronto soccorso È stato scarcerato Luigi Turdò ex assessore del Comune di Termoli arrestato dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta frode fiscale e bancarotta fraudolenta l'imprenditore sono stati concessi gli arresti domiciliari dal giudice Capitelli che dopo aver ascoltato anche gli altri indagati ha deciso di attenuare le misure restrittive la moglie di Turdò che era ai domiciliari ha ottenuto l'obbligo di dimora ed è stato revocato il divieto di espatrio per il figlio obbligo di dimora anche per il commercialista che era finito ai domiciliari Domenica si vota in alcuni comuni molisani il più grande è Montenero di Bisaccia del candidato sindaco più giovane per il paese si chiama Nicola Palombo e guida la lista del Partito Democratico sentiamo Manuela Iorio che lo ha intervistato 31 anni e già segretario cittadino di un partito Nicola Palombo il candidato più giovane che corre per la carica di sindaco a Montenero di Bisaccia il suo nome è il risultato il più votato alle primarie del centro-sinistra è a capo della lista del Partito Democratico composta per lo più da giovani e volti nuovi la lista è formata per 8, 9 e dodicesimi di persone rinnovate giovani, giovanissimi insomma trentenni e quarantenni che vogliono dare una mano per riportare Montenero all'interno a riconnettersi con questo territorio a ricostituire una struttura sociale che si sta disgregando insomma una mano attiva e fattiva al bene comune alla comunità con qualche punto di esperienza quindi un giusto equilibrio tra esperienza ma soprattutto con l'entusiasmo di una nuova generazione che deve riprendersi il futuro e che deve mettersi a disposizione di una comunità con il senso civico che le appartiene Tra le priorità del programma esposto ai cittadini con incontri nei quartieri e lungo le strade c'è il sociale Il programma è basato soprattutto sull'attenzione alle fasce deboli della società e quindi soprattutto per quanto riguarda la tassazione la rimodulazione delle aliquote abbiamo detto chi meno ha meno paga un abbassamento importante una riduzione al minimo sull'aliquota IMU sui terreni agricoli e anche una rimodulazione dell'IMU sui capannoni sui fabbricati industriali cercando di prevedere anche l'abolizione di questa tassa per un numero di anni che dobbiamo andare a quantificare per chi investe e quindi apre una nuova attività industriale per la prima volta sul territorio di Montenegro poi sociale quindi welfare e poi Europa abbiamo detto che lì si recupera il gap del taglio dei trasferimenti pubblici E per la prima volta a Montenegro di Bisaccia corre per il rinnovo del Consiglio Comunale anche il Movimento 5 Stelle la lista ha avuto l'ok da Grillo il candidato sindaco è Renzo Magagnato sentiamo ancora Manuela Iorio che l'ha intervistato a sfidare i tre Nicola candidati sindaci di Montenegro per la fascia tricolore c'è anche un Renzo si tratta di Renzo Magagnato a capo della lista Movimento 5 Stelle che per la prima volta concorre alle amministrative del centro basso molisano i pentastellati hanno ottenuto l'ok dal bloc di Beppe Grillo per utilizzare il simbolo sono nove i candidati consiglieri la lista è composta da lavoratori e persone cittadini umili cittadini della società civile l'unica cosa come dire importante è che è la prima cosa oltre al curriculum è quella di ognuno di noi ha il certificato penale il certificato dei carichi pendenti nullo con questa iniziativa vogliamo portare avanti i punti nevralgici del Movimento 5 Stelle e qui a Montenegro puntiamo come programma amministrativo la lotta alla corruzione la trasparenza amministrativa quindi vogliamo far diventare il comune di Montenegro il municipio un palazzo di vetro nel programma di Grillini molta attenzione al sociale e il miglioramento della zona Costa Verde dove durante il tour elettorale hanno raccolto molte lamentele ci sono i progetti a costo pressoché limitato come ad esempio l'ampliamento dell'area pedonale qui in centro storico e soprattutto la zona piazza Giovanna XXIII che è la piazza in distanza della chiesa di San Matteo Apostolo e soprattutto la villa comunale ecco noi vogliamo un paese a misura di bambino è importante un asilo nido pubblico questo è uno dei nostri punti poi parleremo di Tarso a chilometro a chilometro zero siamo contro la cementificazione selvaggia soprattutto in Contrada Padula nella zona Costa Verde dove lì siamo andati e abbiamo trovato grosse lamentele e guardate bene che le lamentele riguardavano la disfunzione dei servizi continuano le indagini sul comune di Santa Maria del Molise oggi su mandato della procura di Isernia i carabinieri hanno perquisito le abitazioni a Santa Maria del Molise e anche a Isernia di un amministratore comunale ci sarebbero stati anche sequestrati dei documenti tutto accade dopo che per diversi giorni al comune di Santa Maria c'è stato l'ennesimo controllo della guardia di finanza chiamata anche qui ad acquisire atti e documenti educazione e gender le famiglie si interrogano è il convegno organizzato domani alle 18.30 all'hotel Rinascimento di Campobasso è stato promosso da una rete di associazioni che si occupano di aspetti legati alla famiglia e all'educazione sentiamo il dibattito sulla teoria gender è aperto e spacca l'opinione pubblica per gli attivisti gay e non solo il genere il vivere da maschio o donna è una costruzione sociale a questa teoria c'è chi si oppone con fermezza le associazioni Sentinelle in piedi Istituto per la Famiglia Politica Etica Responsabilità e Forum delle Associazioni Familiari che si occupano di aspetti legati alla famiglia e all'educazione hanno organizzato domani sera alle 18.30 all'hotel Rinascimento di Campobasso un convegno dal titolo Educazione Gender le famiglie si interrogano si interrogano innanzitutto sulla necessità di divulgare queste ideologie che si stanno diffondendo soprattutto nel campo scolastico e c'è la necessità di difendere a tutti i costi la famiglia naturale sia dal punto di vista laico sia dal punto di vista cristiano difendere la famiglia come modello del cielo e voluto da nostro Signore Gesù Cristo sulla terra al convegno sono previsti interventi di genitori studenti ed educatori e due relazioni si tratta del dottor Torri medico bioeticista dell'associazione Scienze Vita che esporrà questa ideologia gender in tutti i suoi aspetti invece il dottor Massimo Ripepi che esporrà una diciamo così la sua esperienza riguardo a queste tematiche che sono oggigiorno molto importanti idillio di una notte di quasi estate l'evento benefico culturale e musicale organizzato alle bucoliche a Termoli l'appuntamento domani alle 20 con il patrocinio del comune parteciperanno l'attrice e conduttrice televisiva Barbara De Rossi il ballerino e opinionista Gianni Sperti il critico e opinionista Raffaello Tonon l'attore DJ e showman Biagio Danelli e la modella Olga Friniuc madrina della serata ci saranno spettacoli e giochi per bambini e adulti con una decina di clown ricavato dell'acquisto di bevande e altro verrà devoluto al reparto di pediatria dell'ospedale Santimotio di Termoli è stato presentato nelle sale del teatro Bellini di Napoli il romanzo troppo bianca per restare sordio alla prosa della scrittrice molisana Greta Rodan il servizio è di Sergio Di Vincenzo edito da Milena Edizioni il libro troppo bianca per restare della scrittrice molisana Greta Rodan è un'opera dai connotati surreali e dai ritmi serrati pervaso da una sottile ironia di fondo per l'autrice che presto presenterà il suo lavoro anche nella nostra regione è stata buona la prima al teatro Bellini di Napoli ha infatti ricevuto un'ottima accoglienza le letture di alcuni passi del romanzo sono state affidate agli attori Michelangelo Ragno e Paola Paradisi mentre al piano si è esibito il maestro Simone Sala la storia di Bianca protagonista del romanzo è solo all'apparenza ordinaria nelle sue vicende l'amore diventa un pretesto l'esistenza un accidente quasi puro chi legge cerca a tutti i costi di trovare un senso si sforza di dare spiegazioni puntuali a dare un giudizio che sia validissimo universale ma in realtà ci si scopre terreni parziali aggrappati disperatamente al solo patto possibile l'accordo tra due innamorati di lusingarsi a vicenda e di farlo con poca grazia incuranti del resto del mondo ebbene quando capitano giorni come questi e il parere di Greta Rodan non si riassume un romanzo lo si scrive sebbene che siamo donne storie di rivoluzionari è il titolo del libro di Paola Staccioli che sarà presentato questa sera alle 18.30 al Blow Up Café all'ex Omni a Campobasso interverrà anche l'autrice insieme a lei Silvia Baraldini attivista politica che si è battuta per i diritti civili degli afroamericani nota per il suo arresto negli Stati Uniti nel 1983 fu estradata in Italia nel 1999 e nel 2006 scarcerata per effetto dell'indulto l'iniziativa organizzata dall'osservatorio repressione Un cane per amico è il progetto presentato a Campobasso in una conferenza stampa allora sentiamo di cosa si tratta in questo servizio Per chiunque abbia avuto un cane è mai detto così veritiero come quello secondo il quale il cane è il miglior amico dell'uomo e un cane per amico è proprio il progetto di cinofilia organizzato dalla FIDASC diverse le iniziative promosse soprattutto per coinvolgere i più giovani e sensibilizzarli sull'argomento Quando abbiamo messo su questo progetto l'abbiamo fatto con convinzione quello che ci teneva che ci premeva era quello di arrivare alle famiglie ai bambini che sono quelli che poi trasmettono diciamo sono gli adulti di domani e quindi solo attraverso loro potevamo mandare questo messaggio che è un messaggio di informazione e siamo adesso all'epilogo faremo il riassunto di tutte le attività che abbiamo fatto in questi mesi Appuntamento dunque domani in piazza della Vittoria a Campobasso la mattina con le scuole e le premiazioni delle elaborati finali del corso di educazione cinofila e ancora dimostrazioni con i corpi dei vigili del fuoco e della guardia di finanza nel pomeriggio poi con corsi di bellezza e di agilità per i nostri amici animali e loro padroni ma obiettivo prioritario dell'evento è quello di educare alla comprensione e alla collaborazione tra cittadini amministrazione e animali c'è molta sensibilità lo stesso assessore manifesta molta vicinanza al mondo degli animali quello che occorre fare è che stiamo facendo intervenire sul canile e nel rapporto uomo animale la manifestazione di questi giorni serve anche a quello oramai sempre molte più famiglie hanno degli animali in casa vanno educati gli animali ma molto prima ritengo che vadano educati i proprietari di questi animali nell'evento un cane per amico è stata inserita la prima edizione del progetto mi fido di te promossa dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Campobasso in collaborazione con l'EMPA Campobasso spesso siamo noi che dobbiamo fidarci dei nostri cani ma loro si fidano di noi ci si è creduto in questo progetto e anche grazie all'intervento dell'EMPA si è deciso di dedicare una campagna di sensibilizzazione alla città in effetti sono stati offerti da parte nostra dell'Agripet dei portasacchettini con dei raccoglitori da regalare a tutti i partecipanti di questa giornata Pienone all'auditorium ieri sera Isernia per il concerto di Massimo Ranieri intervenuto comunque nel capologo Pentro nonostante il grave lutto che lo aveva appena colpito con la morte della seconda moglie nonostante ciò lo showman si è esibito vedete le immagini rispettando il suo impegno contrattuale riscuotendo applausi e ripetute richieste di bis da parte delle 800 persone presenti allo spettacolo al Blue Note di Campobasso ci si prepara per un altro sabato all'insegna del divertimento tra gli ospiti in programma per questo weekend anche Amedeo Andreozzi salito alla ribalta per il suo ruolo di tronista nella trasmissione del pomeriggio di Canale 5 Uomini e Donne il servizio continuano le splendide serate inserite nella fitta agenda estiva del Blue Note sabato prossimo 30 maggio saranno ospiti nel locale Campobassano due nomi prestigiosi per una notte tutta da vivere a pieno spicca la venuta in Molise in esclusiva nazionale di Amedeo Andreozzi noto tronista della trasmissione di Canale 5 Uomini e Donne alle prese proprio negli ultimi giorni con una delle scelte più emozionanti e delicate della sua carriera di primo volto maschile del pomeriggio di Canale 5 il tronista prossimo ospite del Blue Note ha scelto tra le sue corteggiatrici la siciliana Alessia Messina i due sono andati a formare una coppia televisiva che inizia già a riscuotere simpatia e affetto presso il pubblico l'area house vedrà la presenza di DJ di punta dell'etichetta MusicCon di Marco Carola su tutti il DJ internazionale Leon che per l'occasione salirà sulla console del Blue Note con altri due suoi colleghi emergenti si tratta di Mazou e Robien questi ultimi appartenenti al panorama tecno nazionale ha riscosso grande successo tra il pubblico della notte e la novità dell'area latina nella splendida location del bordo piscina gli appassionati del genere affollano l'area dedicata a questo genere da quattro settimane a questa parte in attesa pure che l'area suddetta diventi a breve fruibile per i bagnanti che volessero godersi la piscina ovviamente in diversi momenti della giornata l'ingresso al locale sarà gratuito per tutti entro le ore 23 e 30 inoltre sarà confermato il servizio navetta attivo dal centro città fino al locale per rendere un'offerta alla clientela il più possibile esauriente ma anche per tutelare la sicurezza stradale chi volesse effettuare la prenotazione dei tavoli può rivolgersi al numero 329-6509-450 la direzione del locale Campobassano comunica che in occasione del prossimo sabato quello del Corpus Domini il Blue Note resterà chiuso per poi riaprire in grande stile il 13 giugno quando a Campobasso giungerà la bellissima Cristina Buccino apparsa in tv prima nelle vesti di professoressa del game show di Rai 1 l'eredità poi recentemente come naufraga dell'isola dei famosi edizione 2015 da segnalare che in coincidenza della prima serata del Blue Note del mese di giugno verrà pure inaugurata all'area pizzeria stuzzicheria per tutti coloro che volessero trascorrere un piacevole preserata bene è tutto il nostro TG delle 14 termina qui dopo la sigla le previsioni meteo poi come sempre la linea ai colleghi dello sport noi ci rivediamo per il TG delle 15 buon pomeriggio grazie a tutti Grazie a tutti.